Fa sta bene la gente Infatti questa è la nostra filosofia Fa sta bene la gente Soprattutto di questi tempi C'è bisogno proprio di Di scoprire tradizioni, familiarità E il cuore di Roma Devo dire che in questi ultimi anni Complice anche alcuni eventi che non stiamo nemmeno a rinominare Però si è riscoperto il piacere Della convivialità, di stare insieme Di prepararsi un cibo buono Di aprire una bella bottiglia di vino E' quello che vogliamo fare in questo spazio Attenzione Sugo alla matriciana Fate la foto Erguanciale Di cui 100 grammi stagionato al pepe E 100 grammi affumicato Esatto Dice Alessà però Cercatelo perché si trovano 200 grammi in tutto Pomodori pelati Quando è stagione si possono usare 700-800 grammi di pomodori freschi Varietà casalino Altrimenti pomodori pelati 600 grammi Erpegorino romano Solo pecorino romano E non è che dobbiamo mischiare con tutto il rispetto A altri formaggi grattugiati No, 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 pecorino romano No, è il pecorino Pecorino romano 200 grammi Vino bianco Un quarto di bicchiere Bello secco Sale mix di pepi E poi il peperoncino Maestro ti seguo Facci sognare Allora, intanto mettiamo la pasta Sì Poi andiamo Per quanto riguarda la pasta Maestro Allora Diciamo che La pasta corta Pasta corta Noi e nonna Prese gli gnocchi Gnocchi di patata alla romana Quelli classici Alla matriciana Noi proponiamo gli gnocchi Alla matriciana Che sono favolosi Però Tonnarelli Rigatoni Spaghetti Bucatini Ad amatrice Devo dire che Il formato di pasta È il bucatino Alla matriciana Certo, certo Però noi facciamo gli gnocchi Perché nonna Gli piace gli gnocchi Mettiamo il guanciale Allora, noi andiamo a mettere Adesso il guanciale A sudare piano piano E lo lasciamo A sudare piano piano Una cosa importante Padella de ferro A padella deve essere De ferro Qui a induzione Nonna avrebbe detto Che è sta roba Però vabbè Perché alchimimente Avrebbe detto anche Andiamo bene Proprio bene Quindi adesso Andiamo a far A far rosolare Il guanciale Anche perché Loro con la nonna Hanno ineditato Lo scetto Della tradizione antica Antichissima Come quella Della cucina romanesca Il piatto preferito Questo te lo ricorderai Lo so che è difficile Perché lei amava magna E quindi Il piatto preferito De nonna La matriciana La matriciana La matriciana Che cucinava anche Ogni tanto Quando era ricoverata A fare bene fratelli Quando si poteva fare Agli infermieri Così al volo Così Oppure anche sul set Con verdone Che ogni tanto Faceva A matriciana Infatti Carlo Che salutiamo Ha raccontato Che quando Fecero il film Insieme Lei mise K.O. Tutta la troupe Perché Nella pausa pranzo Invece dei cestini Chiese al produttore Di portare L'occorrente E cominciò a preparare Carbonara A matriciana Per tutti Insomma Il film andò benissimo È diventato Un master Del cinema italiano E della comicità Ma al tempo stesso Hanno finito tutti Che c'erano Tre quattro Chiedi E stavano così Senti invece Il piatto preferito Del zio Del zio Sempre la matriciana Sempre la matriciana E le minestre Certo E le minestre Loro però facevano Sia nonna che zio Aldo Una loro matriciana Nel senso che Aggiungevano Uno spicchio d'aglio Che poi toglievano Pezzettino di cipolla Noi invece la facciamo Come abbiamo raccontato Adesso mettiamo Allora Il casalino Una cosa importante Che Sì Come diceva sempre Anche mio padre Mio fratello Renato La matriciana Non deve essere Con tanto sugo Deve essere ramata Perché Diciamo che In un certo qual modo Nasce È un'evoluzione Della gricia Certo E quindi il pomodoro Deve essere E